3, 2, 1, GO! Buongiorno ragazzi ragazzi oggi sono io Marco vi faccio vedere i miei regali di Natale allora i miei regali di Natale sono stupendi ma a parte essere stupendi alcuni sono inutili e alcuni sono utili cioè da me non vi potreste mai aspettare di vedere che ne so boh qualcosa di tipo utile come una sciarpa o qualsiasi altra cosa ma tutte cretinate allora questo da papà Natale mi è arrivata la macchina dello zucchero filato allora raga in pratica ve la spiegherò nei dettagli se volete un video ve lo faremo io e l'alle questa è stupenda e si è un po' sporca comunque raga al primo ho fatto uno zucchero filato buonissimo va bene è comunque un po' sporca quindi vedete comunque questo è poco perché poi ieri comunque abbiamo fatto altri zuccheri filati ed era proprio sporca poi la laviamo sempre solo ora che ve la volevo far vedere e quindi andavo a dire mamma aspetta la laviamo dopo sempre dopo Natale mi ho portato queste stecchette qui non solo pacco ma tanti solo che le ho lasciate di là ma per dimostrazione ve le ho fatte vedere e me ne ha portate tante tante e con queste bellissime buonissime allora raga mi sta avendo voglia di un bello zucchero filato che dopo andando a fare e poi coloranti per lo zucchero vabbè lo zucchero ce l'avevo un dito e vi faccio vedere i colori raga allora io sinceramente quando escono questi packaging così belli piccoli con tutti così qua io potrei morire dal vedere quanto sono belli comunque questo da babbo Natale tutto ciò poi oh mamma si è rotta la Lalle Lalle mi ha regalato aspettate questo no Lalle mi ha regalato un anellino molto carino bellissimo stupendo aspettate questo infinito bellissimo ed è stupendo io già l'ho messo io lo metto all'indice poi dovevo mettere degli anelli poi sempre regalo di Lalle mi ha regalato una cosa che io ho sempre voluto perché comunque sono uscite da poco da noi la busta surprise di Tiger raga allora non vi dico niente di quello che è uscito perché non so se è uscito prima quello o prima questo di video comunque noi abbiamo fatto il video di queste sono uscite cose bellissime vi giuro basta non dico più niente e quindi la busta surprise di Tiger e la metto qui Lalle ha fatto un'ultima scelta poi da babbo e mamma mi hanno babbo e mamma mi hanno regalato delle bat bomb ne sono più ne sono sei solo che due ne ho regalate a Lalle e una la regalerò a mamma quindi pensate un po' a me rimangono tre bat bomb io sono molto generosa allora la prima è quella lì ad arancia comunque è arancione un'altra raga questo vi giuro non so di che gusto è ma infatti è buonissimo aspettate davanti peptim tipo raga è buonissima come odore non si vedrà mai comunque è viola con un trucco di aspettate non si vedrà mai poi un'altra raga questa vorrei farvela vedere bellissima tipo questa azzurra tipo bianca con dei piccolini quasi azzurri buonissimi anche questa e poi questa a limone aiuto è gialla e questo sono stupende e ora vi faccio vedere il pezzo ah no non è ancora finito ovvero aspettate io mi ricordo delle mie cose ah poi mi sono regalata anche una collana a babbo condivisa con l'ale solo che mi si è rotta nemmeno in due giorni e io ora sono senza collana l'ale mi apri il pandora comunque qui c'è anche l'ale l'ale me lo apri ciao raga mi sono stati regalati due charm stupendi uno da due delle mie zie e un altro da babbo che io ok cioè io per vedere un regalo a mamma ho trovato una cosa che mi piace tantissimo ora ve le faccio vedere aspettate allora quello che mi è stata regalata le mie due zie che ho scelto io cioè è stata una corona raga bellissima che ora vi faccio vedere aspettate spero che si veda aiuto provo ad avvicinarvelo a coprirmi no raga non si vede come è possibile comunque che ne do tipo questa no raga aspettate la devo far vedere però così va bene ditemi non lo so forse se lo sfondo bianco comunque io sono in pigiama comunque è una corona bellissima e spero che la vediate anche da lontano perché il focus non lo fa la telecamera non fa focus quindi questa bellissima e poi questa raga io la l'adoro e appunto questa era stavo vedendo le quali di mamma e poi ho trovato la mia vita il mio tutto in pratica è stato questo ed è una raga non so se conoscete non mi ricordo se si chiama così tipo si chiama il film della disney e in pratica è questo palloncini tutti questi palloncini raga però che cavolo non si vedono opla è questa con sopra questo cosiddino qui e quindi sono tutti e due stupendi e bellissimi e li volevo tantissimo soprattutto anche i palloncini bellissimi bellissimi ok raga mi sa che dopo metterò di nuovo il mio bracciale perché ora è un po' complicato come cosa però non voglio perdere nessuno dei miei cosi ora arrivo al pezzo più forte che ci ho giocato raga mattina giorno sere tutto il resto presso l'ho messo in una busta perché attività avrei perso tutto cosa c'è qui dentro allora voglio dire che questo cioè io l'ho chiesto a settembre per il mio compleanno però secondo me babbo già si era organizzato come la faceva a Natale allora questa è la cosa che ho insomma ed è la penna 3D raga allora la penna 3D fa delle cose tipo allora all'inizio non ho capito come si usasse come si usava però poi ho capito che poi se volete nel dettaglio ve la farò vedere un video e per la mia prima costruzione è stata questa casa un po' brutta un po' brutta però raga sinceramente come prima costruzione che io sinceramente mi devo ancora prenderci la mano del tutto per me va benissimo poi la penna 3D con tutte le sue ricariche tipo ora ve ne faccio vedere alcune vedo che due le pescate queste invece sono uscite ci sono usciti due pacchetti sì con cinque o sei ricariche così del genere così piccole cioè piccole comunque che io le uso per fare solo un mulo di una casa vi faccio un esempio e questo sono uscite dieci no cinque di un pacchetto credo cinque o sei e cinque in un altro di uno c'è delle alcune più chiare più quelli lì sui toni più lilla rosa verde acqua e nell'altro tipo quelli là più caldi più caldi viola giallo rosso e queste cose qui e quelli già le ho aperti invece le ricariche non le ho ancora aperte perché perché voglio aprirle quando mi saranno finiti quelli e quindi come mia prima costruzione è stata questa per me ci ho messo tre ore raga vi giuro tre ore dalle due fino alle cinque del mattino e del pomeriggio e quindi queste raga questi erano i miei regali di natale spero spero che vi siano piaciuti e mi sono piaciuti tantissimo raga bellissimi e niente vi ricordo di iscrivervi a instagram marghe giulia cavoi traspino basso affida su tiktok marghe giulia cavoi sul canale di lalle marghe lettera e anche il mio cognome quindi il suo è il mio e sul nostro canale principale marghe giulia cavoi se vi è piaciuto lasciate like commentare iscrivete al canale il condivio dappertutto mi è piaciuto ciao ciao